Il primo grano si intitola Palle di Natale, Smile, It's Christmas Day Un himno alla gioia del Natale, scritto e prodotto dalla Fondazione Giovanni dell'Istituto Tumori di Milano Abbiamo contattato l'Istituto Tumori per invitare i ragazzi qui a sentire la loro canzone ma non hanno potuto essere con noi fisicamente Tuttavia lo sono virtualmente, dato che ci hanno chiesto di mandare loro un video della nostra edizione Tra l'altro vi invito ad andare a vedere i loro video ufficiali della canzone che si trova facilmente su Youtube e che è bellissimo perché riprende i ragazzi mentre cantano in sala di registrazione Infine il Coro Giovanni Samalate ha deciso di donare una piccola offerta all'Istituto e così può fare più che voglia di voi andando sul loro sito istitutotumori.me.it O in modo ancora più facile potete supportarli acquistando la loro canzone tramite un link su Youtube donando una cifra illisoria di cercare l'Istituto Il ragazzo della stanza 13 pensa che le feste sono vicine Il suo amare riempie la dispensa e riflette sul regalo che già si trova davanti chiuso con me nella scatola dei desideranti Vorrebbe la normalità di ogni anno la consuetudine ma si tratta di un giudice che condanna l'abitudine La vera norma è la forma che diamo noi Nessuno dorme d'ora in poi perché partono le musiche Passano il tubo della febo per fare gli addobbi Le lucine non servono basta nei tuoi occhi che illuminate di speranze illuminano le stanze e le globuli bianche vedono la nega a fiocchi Dunque il ragazzo scarda al nastro di cerotte e vele altrimenti poi il Natale chi ce lo difende Dentro la scatola un biglietto che invita a regarsi dagli amici in sala d'affetto e infine lascia dentro Ci vediamo in mediatria e condividiamo la macina che è avuto l'Istituto del Natale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti